Il dialogo iniziale di Mario e di Roberto diceva proprio questo, il potere che è il simbolo del potere fino a stesso, il potere che è soccluso, sopraffazione, ma soprattutto ormai affarismo. La politica è donna, la politica è come l'arte, l'arte è donna. La bellezza è donna, noi abbiamo voluto farlo oggi, il 9 marzo, proprio anche in omaggio alla giornata di ieri, che era la festa della donna, in una prospettiva liberale, andando a dare forza alla nostra idea di cambiamento dei metodi e dei costumi, di una politica che non si può neanche più chiamare politica, ma la possiamo chiamare potere, oppure i personaggi che compongono questo potere dei politicanti. Quello che noi pensiamo è che, essendo finiti i partiti, è sovravvissuta la partidocrazia, la partidocrazia ha favocitato i partiti stessi, quindi non c'è più possibilità né di rinnovo di classe dirigente, né di cambiamento basato sulle virtù, se le capacità, sulle qualità, sulle attitudini, sul talento di ciascuno. Ma c'è tutta una selezione a rovescio che premia spesso i gregari, gli yes-men, i mediocri. Questo è un pensatorio, il cantiere è un luogo dove c'è la possibilità di pensare, la filosofia della politica, la filosofia della pratica, questo fa il cantiere. E da offre idee, unendo questo metodo liberale, quindi del dialogo, del contraddittorio, della possibilità di incontrarsi, di vedersi, di discutere insieme tra idee diverse, non avendo un partito di riferimento, possiamo costruire un campo altro, un altro campo, perché quello che abbiamo di fronte, quello dominante del potere ormai è un pantano, è un campo di sabbie mobili. La politica è un'arte, l'arte del nuovo possibile, la politica è l'arte del vivere meglio. Bisogna riscoprire l'essenza del nostro essere, dell'essenza del nostro impegno e di partecipazione nella vita politica, quindi politica è cultura, cultura è politica. Si deve ripartire da campo, bisogna ricostruire, trovare un altro campo e coltivarlo, ripartire proprio dai vocaboli, dalle parole, dal significato delle parole. Se voi vedete in televisioni i dibattiti che ci sono, le parole sono scuotate, potrebbero dire una cosa, è l'esatto contrario e non è per bene lo stesso, le parole hanno verso di senso e noi stiamo riscrivendo l'abbecedario della politica, insieme tutti quanti, il dizionario della politica, mettendo la parola e dicendo che cosa significa, cercando di dare di nuovo forza e significato alle cose, perché la tecnica punta un risultato, ma l'arte ricerca un significato e la politica è un'arte. Se non riscopriamo la politica in questo senso, quindi come bellezza, non è che avremo un futuro migliore. L'unica cosa da fare, forse è recuperare anche quello che diceva Luigi Naudi, il nostro presidente liberale, che diceva la bellezza della lotta e tutti per tanti anni si sono concentrati sulla parola lotta. Il cantiere ha scossato l'asse e ha detto la parola più importante è la bellezza della lotta. Cioè la lotta significa avere anche delle diverse, dialogare, contraddire, cercare nuove motivazioni e avere la possibilità di sapere che l'altro potrebbe avere ragione e poi torto. E anzi, attraverso l'altro noi rafforziamo le nostre convinzioni se sono motivate, se perdiamo la motivazione e ci accorgiamo che stiamo sbagliando. È l'altro che ci dimostra eventualmente se stiamo andando verso una soluzione di verità o se dobbiamo correggere qualcosa. Questo stiamo facendo, ecco perché la nostra associazione inizialmente non avrebbe neanche voluto avere uno statuto o delegati, che siamo stati obbligati per la legge burocratica, noi dobbiamo avere il presidente, il tesoiere, però a noi non interessava. Però per esistere, per non essere considerati decarbonati, allora abbiamo voluto mettere le cariche, ma le cariche per noi non hanno un significato gerarchico, un significato di costruzione di potere, ma delle responsabilità sono delle funzioni. Allora no, la funzione del coordinatore vuol dire che svolgerà questa funzione tecnologica del servizio che svolge l'interno associazione, ma l'associazione è una squadra, c'è la mentalità di squadra. Io lavoro per la squadra e la squadra lavora per me, ciascuno pensa così e quindi ognuno cerca di fare per l'altro, nell'insieme, nella diversità, perché la diversità è una ricchezza, l'uguaglianza è il valore della diversità. Se manca la diversità si arriva all'omologazione, siamo un'omologazione, cioè tutti con lo stesso parametro. Noi invece vogliamo fare di questa ricchezza un metodo e quello che stiamo cercando di fare è cambiare i metodi. Finché non cambieremo i metodi, i meccanismi, anche all'interno della politica, noi continueremo ad avere i meccanismi del potere, cioè questa cappa di piombo che ci soffoca e impedisce alle nuove generazioni di esprimere loro stesse, alle generazioni più mature di poter realizzare quello che è il loro percorso di vita, essendo costrette a subire questa mancanza di libertà che avanza. E avanza perché il nulla avanza, il potere è il nulla e avanzando toglie speranza, toglie fiducia. Infatti i due elementi di base, i due valori su cui si costruisce il cantiere sono la realtà e la fiducia. La realtà sorregge il metodo liberale, la fiducia reciproca sorregge l'intelligenza collettiva. Se non c'è realtà e non c'è fiducia reciproca, non c'è politica e quindi c'è conflitto. Non ci può essere la bellezza della lotta, come diceva Inalto, ci può essere soltanto la lotta che diventa conflitto, scontro, anche franticida, bestiale. È la legge della giungla, la legge della giungla degli animali, la parte più istintuale. Noi invece vogliamo dare il cuore, l'anima, l'intelligenza, la creatività, la mente, insieme a questo cuore e cercare di cambiare i metodi. Ecco perché vogliamo far in modo che la bellezza, quindi l'arte, la musica, la pittura, tutte le forme d'arte possano esprimersi e far sentire che questo paese, il nostro paese e l'Europa possono essere protagonisti di un cambiamento che ci porti via dalla crisi attraverso quello che è il nostro, la nostra memoria e cioè la bellezza. L'Italia è il bel paese. Perché è il bel paese? Perché noi siamo questo. Se noi togliamo all'Italia il fatto di essere il bel paese, noi perdiamo la nostra memoria, cioè perdiamo la nostra identità e senza memoria non c'è futuro. Il futuro nasce dalla memoria. La memoria, gli antichi cresci, lo dicevano, è Mnemosine. Che cos'è Mnemosine? È la madre delle nove muse, le muse ispiratrici dei cantori, degli artisti, dei poeti. Quindi Mnemosine è la madre dell'arte, delle arti, quindi la memoria è anche la madre della politica, intesa come l'arte del vivere meglio. Quindi l'arte anche nelle sue varie espressioni, sono espressioni della politica. E attraverso la bellezza e l'arte noi possiamo restituire forza alla politica. Anzi, la politica deve assumersi questo impegno, far uscire l'Italia e la nostra Europa dalla crisi attraverso la sua memoria, cioè guardando avanti, guardando al futuro, come la memoria sono le radici. Se le radici si seccano, la pianta muore. Se le radici si annaffiano, la pianta dà i fiori, dà i frutti. Non c'è futuro senza memoria. La memoria è qualcosa che viva nel presente, non è il ricordo, è qualcosa che noi teniamo dentro e lo sentiamo come un elemento vitale oggi. Quando perdiamo la memoria ci resta soltanto la nostalgia, la nostalgia del passato. Quando perdiamo la memoria ci resta solo il ricordo. Il ricordo è quello che ci resta quando abbiamo perso la memoria, quando non sappiamo più di chi siamo. Allora la tendenza è donna. Se c'è la possibilità di dare spazio alle donne, questa possibilità di scantere se l'assunta come presupposto, perché le varie cariche, le varie incariche sono soltanto obblighi del potere burocratico che ci impone di farlo. Ma noi, in tutte le cose che facciamo, nella nostra associazione, le donne sono protagoniste, più di ogni altro, perché le donne possono dare alla politica quello che è il potere, nel senso il reperiore del termine, cioè il potere con la P maestria, quindi quell'elemento di sovraspazione che vorrebbe essere individuato un po' anche sulla violenza maschile. Questo potere non può produrre, è impotente. La politica, se la donna non si mette a inseguire l'uomo con le poltrone, con gli incarichi, con le cose, se la donna sceglie un altro metodo, sceglie un altro approccio, sceglie un'altra possibilità, un'altra prospettiva, che è quella femminile, la politica sarà un uomo.